Gara strepitosa per intensità ed emozioni al paticchi di Amelia. La merina in casacca biancazzurra, orfana dell'esonerato tecnico Dormi, è guidata in panchina dalla dirigenza. Gli arancioni di Montecchio cercano continuità dopo i positivi 0-0 con Federico Mosconi e Campitello. Pronti via i padroni di casa sono già in vantaggio. Pernazza lascia partire un cross da destra su cui si avventa maldestramente Dantimi, realizzando il più classico degli autogol. Gol importante ma per gli ospiti, come vedremo. Prima di scomparire la merina si fa ancora vedere dalle parti di Santucci. Il numero uno è abile a togliere dall'incrocio una precisa punizione di De Santis. Al decimo parità prontamente ristabilita. Gerini entra a contatto in area con il centrale Picciucchi e crolla al tappeto. Senza esitazione l'arbitro Fieri di Terni indica il dischetto scatenando le ire dei locali. Dagli 11 metri Lanari non sbaglia. Qualche dubbio sul contatto Gerini Picciucchi. Il Montecchio prende saldamente in mano le redini di un match che inizia a guidare al ventesimo. Gerini servito dalla destra controlla un pallone completamente solo da strette marcature e lo scaglia di sinistro nell'angolino dove Ciucco non può arrivare. Gol da applausi per l'attaccante 32enne. Il Montecchio ha un fiume in piena e presto realizza anche il terzo gol. Questa volta è Lanari a fare tutto da solo. Slalom in area tra i paletti difensivi biancazzurri e Ciucco infilato in uscita. Quinto gol in campionato per Marco Lanari. In chiusura di tempo torna sotto una merina frastornata comunque. Il gran lavoro di Daniele Pollegioni in zona mediana viene premiato da De Santis che infila sul palo più lontano. Gol capolavoro per il numero 10, l'ultimo dei suoi ad arrendersi. Nella ripresa ti aspetti la vehemente reazione della merina ma la foga dei Ternani si esaurisce dopo 9 minuti. L'occasione più ghiotta capita tra i piedi di Pollegioni. In corsa il centrocampista ex orvietana lascia partire una conclusione su cui si supera un Santucci in giornata di grazia. Al venticinquesimo gli Amaranto chiudono i giochi. E ancora Lanari a colpire dopo la progressione di Zaganella. Il 19enne difensore scambia con Viel prima di servire un assist al bacio per Lanari che con la solita freddezza insacca il definitivo 4 a 2. Da qui alla fine è uno show degli ospiti che iniziano a bersagliare Ciuco. Gerini raccoglie un cross perfetto di Lanari con deviazione plastica del portiere Amerino. Ancora il portiere in evidenza quando si allunga miracolosamente per mettere in angolo un'incornata a botta sicura di Riccardo Viel su assist questa volta di Gerini. Le emozioni si chiudono con la conclusione di un volitivo Valeriani ma Santucci per non essere da meno a Ciuco respinge a salvaguardia del 4 a 2 finale. Si conclude dopo cinque minuti di recupero un incontro ricco di emozioni che propone il Montecchio di Maccari come una delle outsider del girone dopo una partenza stentata. Il sostituto di Dormi avrà il suo bel da fare ad Amelia per ricostruire fisico e morale di una squadra solo lontana parente di quella scaturita dal mercato estivo.